guarda che ci sei arrivato al pelo eh, ci sei arrivato al pelo a toccar per terra non so come ho fatto la prima volta andarvi là guarda che rimane, ti pre трapete, hai dovuto risparmiare come hai fatto adesso? è che non ti sa che non ti aiuta a guardare il sasso si fa che lo puoi su o fa partire? no 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 devi andare in più a lato dai tu che aspetta? va bene devi andare in più a lato eh? dai mi scusate 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 ora ora è 53 eh hai visto che sei passato fuori? dai vi passa però è passato fuori dai mi scusate insergo con te non scusate ancora bravo Siamo iniziando il fronte è completamente alto un picchi, si è sbilanciato l'indietro e non è che c'è rimane alta c'è speranza ed è lì giusto stavolta stavolta eri lì giusto perché appena sei sceso lì boh via via esatto non mi preoccupo e cambiala ma smette che poi ci facciamo male anche noi partì da lì quando la ruota dietro tocca il tronco e ti dà la botta in alto più spirale perché anche nei ginocchi è troppo rigido invece devi incassare quella botta lì ok devi incassare più morbido e poi riparti su aspetta mi piace è troppo alto così sei sulla mano è il chopper devo cambiare il manovere allora metti le corna di bue che così restano più giuste bel video